L'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi ricorrerà al Consiglio di Stato per impugnare l'annullamento da parte del TAR degli atti istitutivi dell'imposta di soggiorno. Una decisione presa a seguito della sentenza del TAR Abruzzo che ha accolto il ricorso delle opposizioni e delle associazioni di bagnatori e albergatori contro un'introduzione al Roseto della tassa di soggiorno. La sentenza per come è motivata e giudicata anche dai nostri legali è una sentenza che è erronea e quindi è nostra intenzione proporre ricorso al Consiglio di Stato per farla valutare dalla magistratura superiore e quindi lo faremo senz'altro. Io ho chiarito con nettezza che per noi è una scelta irreversibile quella dell'imposta di soggiorno e che quindi torneremo a deliberare al più presto tenendo conto naturalmente dei rilievi del TAR Abruzzo sul regolamento stesso perché è doveroso anche cogliere la parte diciamo buona della sentenza e quindi tenendo conto anche dei rilievi e soprattutto ricoinvolgendo gli operatori turistici perché lo si deve fare per legge ma non solo riconvolgendo gli operatori turistici perché io penso che hanno sperimentato che questa piccola imposta che si fa pagare al turista non ha provocato danni al nostro turismo. Tutt'altro quest'anno ad esempio stiamo facendo un'ampia opera di potatura di piante che non si potavano da 20 anni a Roseto grazie all'imposta di soggiorno. Quindi penso che anche gli operatori avranno un approccio diverso in questa fase rispetto all'anno scorso in cui ci siamo contrapposti frontalmente. Io da parte mia do la massima disponibilità ad ascoltare anche la loro voce e a superare un momento di contrapposizione che indubbiamente è inopportuno.